Si vaccina, dirò ti pago ma non lavori. In questa intervista a Repubblica ha annunciato la sua decisione. Anticipando di qualche momento le dichiarazioni, le posizioni di Confindustria, prima di darle la parola voglio dire alle cucinelli che proprio oggi il Ministro del Lavoro Orlando si è incontrato con Landini, quindi ha avuto un tavolo con i sindacati, per discutere del tema del Green Pass, della certificazione verde, come dice Draghi. e Landini, a nome del sindacato, ha detto che il Green Pass non risolve il problema della sicurezza e non è il momento di forzare la mano. Allora, lei che cosa ha pensato di fare, che cosa ha fatto? Ma intanto vorrei dire che abbiamo passato un anno doloroso per l'anima, per il corpo e anche economicamente. E grazie a tutti i dipendenti, grazie al loro coraggio, alla creatività, alla serietà, siamo riusciti a portare questa azienda in una spiaggia abbastanza sicura e proprio in questi sei mesi è totalmente ripartita. Allora io dico grazie di cuore a tutti i miei dipendenti che mi hanno dato questa opportunità. Adesso vorrei preoccuparmi di proteggere per il tempo a venire questi dipendenti. Quindi noi siamo 2.200 nel mondo, a Perugia siamo circa 1.200 e ci siamo tutti vaccinati tranne che dieci persone. Dieci? Sì, io ho cercato di fare un lavoro di persuasione. Che li ha incontrati singolarmente? Non singolarmente, però abbiamo discusso, abbiamo discusso del tema morale, etico del quale, insomma, io credo che dobbiamo farlo. Però io non voglio licenziare nessuno tassativamente perché ho avuto da loro quello che non avrei mai immaginato in questo tempo difficile. Quindi ho detto, se poi all'ultimo veramente qualcuno di voi non se la sente, a me piacerebbe che voi steste sei mesi magari a casa in aspettativa rimunerati. E io credo che fra sei mesi questa pandemia dovrebbe essere teoricamente passata. E come l'hanno presa? E diciamo mi sembra bene, perché il tema di fondo sono il 99% dei vaccinati, cioè 1.200 scarsi, che desiderano di non lavorare vicino a qualcuno che sia vaccinato. È inutile. Tu devi stare otto ore a contatto così, un'ora al ristorante e quindi lo fai con un po' di difficoltà. Quindi seguiterò a fare questo progetto di convinzione che credo che si debba fare con dignità, rispetto, etica, morale e anche essere un po' persuasivi, questo sì. Lei ne ha parlato in assemblea di questi argomenti. Sono andato il giorno prima dal mio presidente Draghi, da me stimatissimo, il quale mi ha ricevuto e quando sono entrato nell'ufficio mi ha detto sono onorato che lei è venuta a trovarmi. Ho detto no, no, presidente sono io. E gli ho spiegato quello che immaginavo di fare io. È chiaro che mi aspetto a corto dal nostro stimato governo che ci dia un indirizzo nitido.